zucca e gratinata è facilissima da preparare e soprattutto è stra buona puliamo la zucca quindi cuociamo al vapore oppure lessiamola per qualche minuto non occorre che diventi morbida priviamola della buccia mettiamo le fette ottenute su una leccarda ricoperta con carta forno condiamo con sale e pepe in una ciotola mescoliamo il pangrattato con il parmigiano grattugiato o se preferite con il pecorino e mescoliamo distribuiamo il composto sulle fette di zucca e profumiamo con erbe aromatiche quelle che preferite io ho utilizzato salvia e rosmarino condiamo con un filo d'olio mettiamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti e voilà